se farò altri video sulle piante ciao finalmente c'è qualcuno che si è connesso a questa diretta scusatemi sono un po' cotto oggi perché veramente sono appena tornato da un giro in bicicletta altri video sulle piante ma in realtà ti dirò ne avevo preparato uno però poi non l'ho pubblicato era un video sulla portulacaria afra che mi sono fatto donare qualche tempo fa una pianta stupenda in generale tutte le piante del portulac e lo so anche a me piacciono tantissimo le piante infatti adesso un po mollato quell'area lì perché non so quanto c'entrasse con con questo canale ho pensato se fare un canale a parte però poi solo un canale sulle piante non l'avrei fatto perché non è proprio il mio pane potrei farne potrei fare qualche video potrei fare qualche video visto che mi arriva la richiesta perché no posso posso provarci e lo so anche tante altre gente mia mi ha scoperto per le piante non sono super esperto devo dire la verità anche su quello come in tante cose cerco di imparare giorno per giorno magari in primavera magari in primavera ci rimetto mi ci rimetto perché adesso il mio giardino comprende poche cose mi sono portato dentro la scadence brasil il potos che ho qua sopra proprio di fianco un po di piante mi sono morte e quindi quindi adesso aspetto sicuramente poi quando 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 ricomincio il periodo me ne farò donare qualcun'altra adesso mi sono preso bene con le insalatine quindi c'ho c'ho il balconi pieni di rucola c'è una marea di rucola infatti chi mi segue su instagram l'avrà visto che mangio rucola in continuazione perché ne sta venendo una montagna ho piantato della dell'insalata invernale della misticanza invernale che sta venendo su non ho ancora assaggiato e delle indivia riccia anche quella non l'ho ancora assaggiata la devo tagliare in questi giorni perché si è già allungata e quindi direi che quasi ore visto che a me piace mangiare visto che ho fatto anche tante ricette di cucina che poi ho spostato sul canale di cucina solo cose buone mi piace anche quando posso nel mio piccolo coltivare sul balcone perché non ho un orto e quindi in realtà non è non è che non ce lo potrei avere perché c'ho il mio social che ce l'ha e qua dietro però non ho voglia di mettermi a fare pure quello perché impazzirei cioè già sto facendo un sacco di roba e poi l'orto è una cosa da seguire per carità non dico che sia una cosa da pensionati però ci vuole veramente tanto tanto tempo quindi io o ce l'hai proprio sotto casa io dovrei andare qui a cinque minuti quindi già ci metterei un po' e dopo un po' sicuramente mi scadrebbe sarebbe figo io guardo tantissimo il canale di Matt The Farmer ad esempio che è veramente un grande cioè mi piacerebbe un casino fare le cose che fa lui però però non ho il tempo materiale cioè ho altre passioni molto più forti e quindi sto coltivando quelle però dai Paolo grazie per il tuo esortamento cercherò di farne qualcun altro non mi ricordo se avevo pubblicato quello sull'edera quello era stato cioè l'ho girato malissimo perché ero veramente fatto in cinque minuti avevo fatto un sacco di ricerche prima però poi mi sono un po' perso sulla realizzazione quello della Porto la Caria invece era figo c'ho ancora l'articolo scritto sul sito in bozza che potrei ripubblicare però poi devo rifarlo perché ho perso le riprese banalmente le ho cancellate non avendo poi pubblicato il video ho perso tutto dai magari farò qualche video del genere grazie del grazie del commento mi fa molto piacere adesso in realtà il problema è che ho veramente una marea di video indietro non dico che ne ho una quarantina però una trentina ne ho indietro da fare da montare e crescono perché faccio più cose di quelle che poi monto e creo con tutti i contenuti perché poi bisogna fare l'articolo bisogna fare i post sui social cioè c'è un sacco di lavoro dietro e non essendo questo il mio primo lavoro non riesco sicuramente a farlo adesso mi ero messo a fare sta piccola diretta perché non avevo mai fatto una diretta dal computer l'avevo fatta con il telefono però con il telefono non mi piace perché poi l'altra volta ho fatto una diretta bellissima dove facevo il cioccolato in casa che è venuto strabuono infatti lo rifarò però mi ha mangiato tutto l'audio è diventato tutto schifoso e non si sentiva bene invece qua spero che si senta bene e vediamo insomma poi se rifare questa ricettina insieme che la cioccolata ho fatto una cioccolata in casa con le nocciole tostate è una roba buonissima poi è una cosa semplicissima da fare quindi non so perché non l'ho mai fatto in vita mia io adoro il cioccolato e mi sono perso che cavolo stavo dicendo no non lo so è che oggi sono uscito in bici ho fatto una cinquantina di chilometri 2000 calorie sono cottissimo ho le gambe un po' a pezzi ho detto no vabbè ma perché non ci mettiamo a fare una diretta una direttina così al volo vediamo se si connette qualcuno va bene facciamo due chiacchiere male che vada provo anche questa funzionalità di youtube con OBS così ho un canale in più per comunicare con chi mi sta seguendo insomma mi fa molto piacere e avevo questi non lo so non so quanto tempo ho perché poi in realtà mia moglie mi ha scritto che arriva con i bimbi tra poco quindi quando arrivano sarà un assalto a papà che iniziano a saltarmi addosso tutti a darmi un sacco di schiaffi e quindi mi sa che tra poco la terminerò comunque era solo così una piccola prova di diretta devo dire che funziona funziona bene magari le prossime le annuncerò prima perché come sempre io faccio le dirette così a caso quando ho tempo perché non riesco mai a programmarmi niente però sicuramente è un mezzo che funziona quindi devo darmi da fare aspetta che c'è qui youtube studio qua che mi sta consigliando di usare un bitrate diverso quindi io vi faccio vedere anche che cosa sto facendo dal computer se ci riesco ok questo qua devo cambiare il bitrate di sta roba cioè guardate quanta roba bisogna imparare per riuscire a qui cos'è che mi ha detto 4500 4500 va bene 4500 bitrate a imparare a fare le dirette boh magari sono io che voglio fare troppa roba però eccomi qua tornato nella webcam principale questa qua che mi piace un casino tra l'altro mi sembra che venga abbastanza bene anche la ripresa e due spettatori simultanei bene ragazzi ciao a tutti sto realizzando la bicicletta adesso non so se riesco a far guardare se riesco ve la faccio vedere forse ce l'ho su instagram sto facendo una bici nuova so che non tutti interessa la bici però allora come si fa così eccola qua cioè mi è venuta la vernice spaccata si è rotta io non la volevo che si rompesse però si è rotta e mi piace un casino perché sembra tipo una ragnatela e allora l'ho lasciata così adesso mi manca qualche pezzo che mi arriva nei prossimi giorni e alla fine no vabbè questo qui sapete cosa sembra in realtà sono delle barrette energetiche che ho fatto per la bicicletta che oggi sono andato in bicicletta si stava in maglietta fuori era una roba pazzesca a un certo punto mi sono messo a petto nudo adesso poi ci sono mille storie qua su instagram mi sono messo a petto nudo a prendere il sole perché aspettate che torno torno visibile mi sono messo a petto nudo a prendere il sole perché cacciava caldissimo e avevo la pelle calda ed ero in in collina abbastanza in alto a moncuni monte cuneo qua vicino torino molto bello c'è una croce veramente un bellissimo posto andarci in bicicletta si respira benissimo si passa per i boschi e ci sono questi boschi con dei colori meravigliosi giallo in questi ocra rosso tutti i colori dell'autunno bellissimi e però fa caldo cioè faceva caldo io sono andato in maglietta praticamente mi ero portato una maglia termica ma poi mi sono dovuto spogliare completamente perché faceva troppo caldo e questa cosa dicevo anche nelle storie di instagram non è normale io poi sulla sostenibilità e sull'impatto ambientale delle cose ci tengo tantissimo lo ricordo sempre cerco di fare il mio e quindi insomma c'è provo c'è provo però non è normale in questo periodo e quindi e quindi niente va bene dai allora questa diretta ci ho provato connessione eccellente tra l'altro sono molto contento sta funzionando benissimo farò presto una nuova diretta se c'è qualcuno che mi sta ascoltando bene se non c'è nessuno che mi sta ascoltando va bene lo stesso grazie a tutti per avermi seguito in questa piccola diretta grazie per i consigli che mi avete dato e ci vediamo presto in qualche video intanto io qua faccio termine streaming e ci sentiamo devo scappare ciao